salve a tutte e a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con i casi studio di domoteorica quando parlo di casi studio parlo di una selezione di immagini che ho trovato su internet ad uso gratuito che commenteremo insieme per valutare quali sono gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi che quindi potrebbero creare sul lungo periodo un disagio nelle persone che utilizzassero quella determinata stanza e capiamo eventualmente come potrebbe essere corretto ovviamente poiché parliamo di immagini che alcune sono persino dei render quindi sono state create ad hoc altre sono provenienti da dei contesti completamente ignoti quindi quando noi parliamo dell'analisi della relazione con la casa tutta la prima parte quella legata al soggetto al setting interni esterni non sappiamo niente degli esterni non abbiamo neanche l'immagine completa della stanza e di come le persone di fatto interpretano il loro contesto di vita quello ovviamente sarà assente ma possiamo fare comunque del degli esempi di domande di ragionamenti che possono essere eseguiti in determinate stanze ad esempio lo vediamo e diciamo come potrebbe essere cioè quale potrebbero essere i gusti di questa persona quale potrebbe essere questa persona infatti molto spesso anche semplicemente osservando il tipo di arredamento le cose inserite in casa riusciamo anche a farci un'idea di quello che può essere il range di età gli interessi o comunque il il gusto estetico in senso ampio quindi nel senso più culturale della persona all'interno di questi casi studio guarderemo quindi prevalentemente questa parte qua le disposizioni quindi come sono disposti gli elementi di arredo nelle stanze che vedremo oggi parliamo di camera da letto quindi è posizionato correttamente il letto e ovviamente i colori facendo dei ragionamenti sulla funzione e la direzione quindi potrebbe andare bene in che direzione quella determinata stanza è proprio un tipo di esercizio che consiglio di fare a chi vuole studiare la casa l'abitare consiglio tantissimo di fare questi esercizi perché aiutano a prendere più consapevolezza di che cosa si può notare di che cosa non si può notare e di cose che magari se noi fossimo lì sul posto e non fossimo abbastanza pratici insomma di questo tipo di analisi potrebbero sfuggirsi magari non faremmo la considerazione giusta questa serie di video proprio pensata per gli studenti del benessere domestico o anche per chi vuole avere dei consigli in generale insomma che può applicare anche sulla sua casa se si trovasse in situazioni o con formazioni simili per poter procedere in modo autonomo partiamo quindi subito a parlare della camera da letto la camera da letto come ricordo sempre nelle mie formazioni è l'archetipo della casa in assoluto noi abbiamo iniziato prima a creare dei luoghi dove dormire delle tane come gli altri mammiferi e dopo queste tane nel momento in cui la nostra cultura si è sviluppata abbiamo iniziato ad avere degli oggetti da portarci dietro anche quando eravamo no ma di la casa ha iniziato a strutturarsi sempre di più proprio perché avevamo delle cose degli artefatti che non costruivamo più sul posto quando ci servivano come fanno tuttora le altre scimmie maggiori o anche altri animali ad esempio anche i corvidi utilizzano tranquillamente degli artefatti che vanno a modificare per raggiungere il loro scopo io adoro i corvidi in generale e il e dopo ovviamente ci sarà stato il salto l'evoluzione più grande nel momento della stanzializzazione quando abbiamo iniziato a stare fermi in un determinata zona perché siamo diventati agricoltori l'abitazione si è trasformata da casa e luogo dove si poteva mangiare in sicurezza a un corpus sempre più strutturato fino ad acquisire tutte le connotazioni e la relazione psicologica che abbiamo tuttora quando parliamo di funzione terra noi vediamo questa cosa dal punto di vista del woohing quindi del ciclo delle cinque fasi dell'energia funzione terra è una funzione che affine principalmente con tre direzioni ovvero quelle che ricadono nella cosiddetta asse delle terre che va da nord est passa per il centro e arriva al sud ovest della casa a nord est avremo un'informazione più terra young a sud ovest terra yin al centro genericamente è un'informazione di tipo terra che serve a stabilizzare tutto l'edificio per quello il centro della casa è una parte importantissima la camera viene considerata una stanza di funzione terra perché è una stanza in cui noi recuperiamo le energie che ci dà sostegno e protezione appunto tutte quelle cose che l'archetipo della terra trasmettono comunque nelle sue caratteristiche andiamo quindi a vedere se le varie stanze che ho scelto saranno favorevoli o non favorevoli all'essere una adeguata camera da letto e a essere affini alla funzione di tipo terra vi ricordo prima di procedere quali sono le relazioni del Wu Jing con la fase terra l'informazione energetica di tipo terra è aumentata dal fuoco che la genera è scaricata dal metallo che è l'energia che viene generata dalla terra quindi la fase seguente ed è controllata dal legno perché appunto il legno ha una caratteristica di power nei confronti della terra quindi permette di tenerla sotto controllo inoltre con l'acqua invece essendo il target della terra cioè l'energia che la terra controlla l'informazione di tipo terra sarà sempre impegnata quindi dovrà controllare l'acqua e avrà quindi meno potenzialità di esprimersi se dobbiamo creare delle mediazioni perché come ricordo nel ciclo generativo del Wu Jing l'energia madre, l'energia figlia e l'energia seguente insomma il rapporto madre figlia è sempre armonico quindi non ha bisogno di mediazioni se io ho una stanza a terra posso usare sia il fuoco sia il metallo ovviamente a seconda della direzione spaziale e avrò un'informazione armonica se invece c'è un'energia in scontro in questo caso parlo di terra quindi con legno o con l'acqua sarà necessario avere un'energia di mediazione che permette sempre che non sia necessario alle funzioni allo scopo proprio di un eventuale intervento è sempre necessario inserire questa energia di mediazione che nel caso del rapporto tra il legno e la terra sarà l'energia di tipo fuoco e nel caso della terra con l'acqua sarà invece il metallo guardiamo questa prima camera da letto questa ha una serie di fattori estremamente sconsigliati il posizionamento vedendo l'esterno non sarebbe neanche male è una stanza alta quindi non c'è del disturbo che proviene dalle finestre in una stanza di questa metratura perché se vedete la parete va da qua e la parete di fronte è questa qui ovviamente non è un problema avere una finestra affiancata al letto sarebbe stata molto più problematica se fossimo ad un piano camminamento o corrispondesse ad esempio con una terrazza condominiale in questo caso una cosa fatta giusta è l'inserimento di tende molto pesanti l'esposizione e la vetrata è molto grande per cui la chiusura delle tende è adeguata ci sono anche i materiali sono morbidi i materiali morbidi sono sempre consigliati dal fang shui perché comunque nella camera da letto perché dà proprio questo senso di accoglienza di comfort di benessere ma perché allora dico che questa è una conformazione non adeguata principalmente per due fattori il primo fattore è la scelta del colore l'azzurro e il blu nella camera da letto dovrebbero essere usati sempre solo come punto di colore in tono minimo infatti come potete vedere è una camera che ricorda tantissimo l'informazione di tipo acqua quello che dicevo prima la camera da letto ha una funzione terra se la uniamo a un'informazione di tipo acqua di fatto creiamo una situazione di scontro inoltre i toni dell'azzurro tendono a aumentare quella che è la nostra attività psichica quindi la nostra attività onirica in modo particolare e sappiamo bene che nel sonno è importantissimo ovviamente tutte le fasi del sonno inclusa quella REM e le altre fasi in cui ancora si presenta attività onirica però se andassimo a potenziare questo stimolo ecco non sarebbe proprio l'ideale ci si potrebbe svegliare o anche o frastornati o persino anche stanchi ma il vero grosso errore di questa stanza è la scelta dell'illustrazione la testiera in questo caso è ottima è una bellissima testiera imbottita che crea anche una forma di contenimento tuttavia qua dietro è stato scelto un paesaggio senza fondo se vedete è un mare aperto questo tipo di illustrazione al nostro cervello dà la stessa informazione della finestra anche se ovviamente sappiamo benissimo a livello conscio essere solo un quadro dietro la testiera del letto e comunque in generale dietro le postazioni di riposo dobbiamo sempre essere protetti avere qualcosa che ci dà una sensazione di essere chiusi perché se no il nostro animale interiore e cercate di conoscerlo il nostro animale interiore ognuno di noi ha delle caratteristiche diverse ha una psicologia diversa ha delle attitudini diverse qual è l'animale che vi rappresenta di più? questo è molto interessante come domanda da porsi in che cosa mi potrei rispecchiare? e i miei moti istintivi a quale tipologia, a quale specie animale potrebbero essere più affini? che certi saranno più attivi, certi meno attivi? sono tutti dei ragionamenti che possiamo fare proprio quando analizziamo noi stessi la nostra psiche e anche eventualmente quella dei nostri clienti quindi è importantissimo sempre evitare spazi aperti perché danno un senso di dispersione e di mancanza di protezione in questa stanza in generale nonostante la disposizione sia stata buona c'è una buona scelta dei tendaggi le lampade non cadono sopra il letto anche questa è una cosa molto importante mai avere niente di pendente proprio sopra la testa o sul corpo centrale a volte si vedono i candelabri proprio sopra il letto non sono adeguati però sfortunatamente la scelta del colore e la scelta dell'illustrazione hanno reso una stanza che ha un setup potenzialmente ottimale una stanza non adeguata al riposo il secondo caso invece che ho scelto è una stanza adeguata al riposo questa è una stanza molto caratterizzata anche se credo sia sempre un render comunque è stato costruito come una stanza che potrebbe essere pienamente vissuta questa stanza ha molte cose adeguate allora noi guardando la provenienza della luce immaginiamo che la finestra sia in questa direzione quindi per forza la porta o è a sinistra della scrivania oppure è posta dal punto in cui noi osserviamo quindi a meno proprio di non aver la porta in allineamento con il letto è considerata una buona disposizione ci sono delle cose ottime la scelta dei colori è ottimale per una camera da letto e in generale anche l'inserimento di una pianta va molto bene perché queste piante tra l'altro questa dovrebbe essere una monstera o comunque della famiglia delle monstera sono delle piante che aiutano la qualità dell'aria non abbiate paura a mettere piante in camera da letto ogni tanto c'è sto mito è di notte, ti soffocano perché rilasciano l'anidride carbonica cioè a meno di non avere una pianta che occupa metà della stanza o di avere una marea di piante che quindi aumentano sia l'umidità sia l'anidride carbonica di notte creando un potenziale ambiente non adeguato al sonno le piante vanno sempre bene come sistema di purificazione dell'aria questa stanza è caratterizzata molto bene non ha nulla sulla testiera del letto quindi non c'è nulla che gli potrebbe cadere addosso la parete è piena ed è quella del colore più scuro della stanza questa è un'altra cosa molto consigliata se ad esempio come in questo caso preferiamo avere una testiera molto bassa non queste testiere importanti piene rendiamo sempre la parete dietro al nostro letto più scura perché dà la stessa sensazione di contenimento che ci darebbe una testiera molto importante in più questa stanza caratterizza molto la persona capiamo come potrebbe essere la persona guardate ci sono degli elementi da pittura vediamo qua anche una tavoletta grafica ecco magari non lavorerei in stanza però cioè nel senso questa è una cosa si pensa che questa sia una postazione computer sarebbe meglio non averlo qua vedete quanti cavi elettrici ci sono ma in un'altra stanza magari se uno non ha alternative l'importante è spegnere tutto nel momento del riposo quindi si caratterizza una persona probabilmente molto artistica con una certa passione per le piante perché ha utilizzato piante anche come decori e quindi e soprattutto ha posizionato tutte queste cose molto carine dal lato della tigra perché come anche l'abitazione anche la camera da letto e la postazione del letto possiamo analizzarle secondo gli animali celesti e quindi se noi siamo distesi al letto quello che abbiamo alla nostra destra rappresenta la tigra della camera da letto quello che abbiamo alla sinistra rappresenta il drago e quindi ci fa supporre che mancando in questa parete l'armadio l'armadio sarà posto nella parete opposta quindi nella zona della tigre del drago e avremo un drago più pieno una tigre molto più armonica creativa che è un'altra cosa estremamente favorevole con questi colori poi possiamo visto che sono armonici all'informazione terra possiamo inserire questa stanza in quasi tutte le direzioni perché abbiamo sia del grigio sia del marrone che tendono a renderla armonica alla funzione e abbastanza adeguata a tutte le direzioni se volete ovviamente ricordare tutte le varie combinazioni guardate sul mio canale i video dedicati alla camera da letto in cui do moltissime altre informazioni proprio specifiche di feng shui sulla camera da letto quindi questa sarebbe una stanza generalmente promossa anche qua poi vedete i materiali sono tutti naturali fibra naturale, fibra naturale, tessuti morbidi, niente metallo legno plastificato ma vabbè è il minore dei problemi quindi questa stanza sarebbe una stanza adeguata a riposo vediamo un'altra stanza non adeguata questo tipo di stanza è nuovamente non adeguata sfortunatamente per disposizione probabilmente non ci potrebbe essere neanche un posizionamento migliore a meno che questa parete quella da cui noi osserviamo non sia completamente libera e quindi potremmo mettere il letto in quella direzione quindi che guardi verso la porta e non che abbia la porta proprio che impalli verso il letto in questa posizione vedete il letto è molto esposto risulta visibile da questo che sembra un salotto e molto probabilmente è la stanza principale la stanza più grande della casa inoltre ci fa supporre che questa porta sia una porta che dà su un terrazzo e quindi dà nuovamente una posizione di esposizione questo tipo di stanza sfortunatamente ha proprio dei limiti dovuti alla sua conformazione come potremmo correggerli? potremmo correggerli mettendo delle tende mettendo magari anche se no un pannello cioè nel senso una tenda piena che di notte possiamo tirare e coprire sia questa porta che dà sempre anche se è una terrazza chiusa dà sempre una sensazione di qualcuno che può entrare soprattutto in questo caso che vedendolo potrebbe essere un primo piano vedete qua ci sono le fronde sembra quasi un primo piano quindi siamo anche ai piani bassi la scelta dei colori per una camera da letto non è male può andar bene per le direzioni che vanno dall'ovest fino al nord quindi tutto il settore ovest, nord-ovest, nord poiché possono funzionare bene sia come mediazione per una direzione nord quindi acqua sia per un settore di tipo metallo c'è molto grigio quindi sarebbe sconsigliato per le direzioni fuoco, legno quindi il resto dei settori di casa una cosa positiva di questa stanza è una simmetria molto organizzata e queste finte finestre che danno comunque un senso di spazio di qualcosa che si apre è importante che le finestre siano posizionate ai lati e non sopra infatti nuovamente qui abbiamo una buonissima testiera alta, accogliente, piena e non è però presente questa volta un elemento di sfondamento sicuramente per chi dorme qui avere proprio la finestra in linea con la testa e un'altra porta non è adeguato per cui non sarebbe comunque il massimo ma posizionare il letto nel senso contrario quindi girarlo di 90 gradi e appoggiarlo a un'ipotetica parete qua potrebbe essere più consigliato e per la scelta dei materiali è buona se vedete ad esempio qua hanno usato delle lampade di vetro il vetro e anche questo sono decorazioni in vetro il vetro vi ricordo ci porta un'informazione tipo acqua che ci ricorda proprio la trasparenza dell'acqua e quindi questa potrebbe essere una buona stanza posizionata a nord sfortunatamente quindi la scelta interna della stanza è buona ma sfortunatamente la planimetria non è adeguata se ci fosse la possibilità di posizionare la stanza la camera da letto in un'altra stanza sarebbe meglio se no altrimenti potrebbe essere effettuata una prova con una correzione proprio con una rotazione in modo tale da rendere meno visibile il letto dal salotto insomma da questa stanza qui e che la persona non abbia proprio la finestra in linea con la testa visto che proprio sembra quasi una cosa mirata una cosa che va contro il letto alla fine questo prossimo caso studio invece è buono la persona è riuscita a posizionare nel miglior posizionamento possibile la camera probabilmente non è particolarmente gradevole questo tipo allora questo è un render se vedete non è particolarmente gradevole questo tipo di posizionamento del comodino perché che per creare la simmetria mi va contro la finestra mi impalla la finestra probabilmente sarebbe stato più adeguato scegliere dei comodini più bassi che quindi potevano collocarsi al di sotto della finestra dando un aspetto più armonico questa stanza è molto bianca forse un po' troppo bianca però c'è il punto di colore dato dal tappeto e dalla coperta che trasmette un'informazione terra che va molto bene ed è armonica sia con la scelta del pavimento parliamoci un attimo evitiamo le moquette in casa allora la camera da letto è l'unica proprio l'unico posto in cui potremmo inserire una moquette ed è esclusivamente se ci entriamo solo e soltanto a piedi scalzi in calzini o con delle ciabatte dedicate perché sennò la moquette è proprio un ricettacolo di polvere di allergeni e una raccolta di composti organici volatili quindi proprio di particelle di inquinamento avere un bagno qui non è proprio l'ideale è proprio molto a ridosso con la camera in ogni caso è stato posizionato correttamente perché è sempre meglio avere la testiera o il letto mai appoggiato contro la parete del bagno soprattutto se corrono le tubature e se siamo anche in condominio quindi che magari sono tubature che servono più appartamenti in generale immaginandoci che la porta d'ingresso o è nella nostra direzione o è laterale di qua la disposizione è buona perché non si crea un allineamento tra finestra, porta e letto nuovamente il letto è stato posizionato nell'unica posizione possibile per una piccola metratura che possiamo supporre sia questa stanza come forme è buono nuovamente sono forme morbide con una testiera piena probabilmente si potrebbe magari riempire dare un po' di tono di colore a questa parete anche riprendendo questo tono qua e allora diventerebbe una stanza molto molto adeguata soprattutto per i settori terra come il sud ovest e perché vedete ci sono delle forme metallo e una forma che ricorda e colori che ricordano il metallo che uniti alla terra possono andare molto bene proprio per quel settore parlando di camere da letto perché alleggerisce un po' l'informazione terra che unendo la funzione terra e la direzione sud ovest potrebbe essere un po' eccessiva ma in questo caso potrebbe essere uno smorsamento quindi una scelta di colori e di forme di questo tipo a mio avviso potrebbe andare proprio molto bene per il sud ovest e se vedete anche il bagno è armonico con il sud ovest perché utilizza dei colori metallo quindi colori che ricordano il grigio bianco e grigio che creano una mediazione se questo è il settore sud ovest di casa la camera da letto viene scaricata leggermente dal metallo e va bene il bagno invece ha il metallo che diventa una mediazione tra la funzione acqua del bagno e la direzione terra quindi nuovamente è una buona scelta questa stanza invece per quanto possa essere bella colpo d'occhio nuovamente parliamo di un render ha un errore molto grande che è la presenza di questa enorme finestra dietro la testiera del letto in generale la disposizione è molto buona non abbiamo niente dipendente sopra il letto e guardando una stanza del genere ti fa anche proprio ragionare su una passione della persona vedete ci sono molti elementi orientali quindi e soprattutto lo stile è uno stile orientale in particolar modo la finestra quindi possiamo pensare che è una persona che ama insomma l'Asia in generale e ha scelto questo arredamento troviamo nuovamente una stanza come la scelta di colori è buona abbiamo un pavimento più scuro delle pareti e abbiamo una buona testiera anche se non è una testiera morbida è una testiera piena che dà un senso di contenimento di protezione ma questo proprio rovina tutto l'equilibrio l'unico caso in cui questa cosa potrebbe essere accettabile è che non sia una finestra in vetro fuscato in carta di riso ma sia una decorazione il bianco tuttavia crea un contrasto molto forte per cui magari se uno volesse si potrebbe sostituire questa decorazione proprio o coprirla con qualcosa che dia un senso più di protezione pieno non è un problema la forma nel senso il cerchio perfetto a noi ricorda ovviamente il metallo young per cui nuovamente potremmo parlare di una stanza che vada bene per i settori ovest, nord ovest e scusate ovest sì, ovest e nord ovest e forse un po' meno per il settore nord ma in generale un setup simile è più che accettabile quindi con tutti gli elementi posizionati lateralmente e che caratterizzano anche le persone potremmo pensare che magari un lato va a inserire cose che sono più legate al partner e una più legate al cliente o viceversa o sei di una sola persona ovviamente che caratterizza proprio le proprie polarità il proprio lato young il proprio lato yin però attenzione mai aperture del genere questa è proprio enorme ed è la prima cosa che uno vede in stanza sappiamo che in ogni stanza quando entriamo ci sarà un unico elemento che attirerà subito la nostra attenzione quello deve essere armonico se quell'elemento non è adeguato crea uno sbilanciamento in tutto l'ambiente questa stanza invece per quanto sia molto bianca nella scelta del colore ma diciamo che è anche molto legata alla moda odierna adesso piace il bianco io sono una che fa le campagne fra un po' contro il bianco ma dove serve si usa dove non serve sarebbe meglio evitarlo ma come disposizione è scelta del dei colori ottimali vedete ad esempio questa stanza utilizza un verde che non è un verde pieno quindi anche questo verde ci ricorda un po' di più il metallo piuttosto che il legno e tutte le forme comunque sono forme metallo la tenda è grigia ci sono elementi in grigio quindi questa è una stanza che potrebbe andare bene ad esempio a ovest o nord ovest e se la persona appunto magari ama tantissimo il verde e ci chiede come inserirlo nella propria camera da letto anche se la direzione non è adeguata perché il verde sarebbe più consigliato nei settori est e sud est ovviamente con una mediazione di fuoco per creare un'armonia con con la funzione a terra ma la scelta ad esempio di colori che anche se hanno una tonalità che ricorda appunto il verde o altre tonalità in scontro con col metallo e utilizzando toni molto desaturati vedete come sono comunque metallici questi colori e come in questo cuscino e anche tutti i materiali se vedete sono leggermente satinati sono tipo scamosciati quindi danno un po' l'effetto lucido riesce a creare una buona armonizzazione tra la scelta di un colore che non sarebbe adeguato al settore e il un potenziale ambiente direzione metallo un'altra cosa anche qua forse la pianta ma credo che sia stata una scelta di inquadratura è stata messa un po' troppo a ridosso la sposterei un po' e la cosa curiosa osservate le piante e questa pianta presenta tutte delle venature bianche utilizzare piante che non siano verdi ma che abbiano toni di bianco o piante lanciolate quindi molto a punta possono andare molto bene per i settori metallo quindi ovest e nord ovest proprio perché l'informazione metallo è già integrata in quella pianta non serve una mediazione non serve una mediazione d'acqua per cercare di far comunicare il metallo e il legno proprio si possono usare le piante più adeguate a quella direzione e anche se ad esempio volessi una pianta cioè se fossi proprio appassionato del bianco potremmo scegliere anche delle piante completamente bianche come ce ne sono sul mercato questa stanza invece ha una serie di errori molto molto marcati a cui bisogna prestare attenzione il primo errore e non è rosa nel senso anche se se a uno piace il rosa barbie che usi no questo non è neanche rosa barbie è un rosa baby è un rosa bambina e che lo usi volentieri ma ricordiamoci sempre la regola numero uno la parete su cui poggia il letto deve essere sempre più evidenziata rispetto a tutte le altre pareti per cui in questo caso io avrei mantenuto un tono più scuro appunto su questa parete e sempre restando su rosa se ci piace avrei alleggerito tutti gli altri l'altro errore che salta subito agli occhio è l'uso del materiale allora in realtà la combinazione tra i colori è buona perché il rosa e il grigio rappresentano una combinazione che può andare molto bene sui settori sia sud ovest che nord est il nord est perché è terra young si crea la mediazione col metallo se uno vuole un'informazione metallo e il rosa ci ricorda l'alba per cui il nord est che proprio rappresenta il crepuscolo prima dell'alba è l'unico settore a mio avviso in cui può andare molto bene proprio sia rosa che anche il viola come tonalità della camera da letto però dopo ovviamente noi andremo sempre a cercare quello che preferiamo o quello che preferisce il nostro cliente mai 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 inserire un colore che non piace solo perché l'ha detto il fang shui o il bujing l'altro errore come stavo dicendo è il il materiale lucido è tutto riflettente e io ricordo sempre che in casa non dovremmo avere nulla che rifletta in particolar modo dentro la camera da letto materiali riflettenti possiamo accennarli in altre stanze in particolar modo nel bagno perché la roba che riflette ci trasmette nuovamente un'informazione di tipo acqua in camera da letto non va bene inoltre qualsiasi tipo di superficie riflettente che crea un effetto un po' offuscato vedo o non vedo forme deformate movimenti macchie di colore che si muovono ecco quello viene quasi considerato anche un cc quindi un c decadente un c malato perché è come se noi osservassimo uno specchio e il nostro cervello appena vede specchio sa già cosa sta osservando ma che non ci trasmette un'informazione corretta sul lungo periodo questa cosa potrebbe anche proprio crearci un disagio in generale finora questa è la stanza posizionata peggio perché ha un'enorme metrattura se vedete qua c'è un accesso qua poi si suppone probabilmente questa sarà una porta di un bagno ad occhio o di qua si va al bagno e questa è la porta principale e la persona si è incanalata con la testa proprio in un in un angolo se vedete si forma una specie di quindi un allineamento tra l'armadio e il e la testiera del letto dove sarebbe stato posizionato più correttamente il letto il letto doveva essere posizionato di qua e il mobilio eventualmente di là in questo modo la persona era protetta perché poteva osservare l'eventuale porta di ingresso o comunque essere protetti se l'ingresso fosse stato da questa parte e noi vediamo che la finestra è dall'altra parte comunque sembra che abbia dei tendaggi grossi quindi va bene ricordo le finestre e la camera da letto ovviamente non è che noi non possiamo avere un allineamento tra finestra e letto o tra porta e letto se le metrature sono ridotte dobbiamo sempre calcolare che le finestre possono creare noia solo col camminamento solo se siamo al piano terra o appunto il piano camminamento come dicevo prima se no basta un qualsiasi tendaggio molto scuro delle serrande qualcosa che copra la finestra durante il momento del riposo e noi riposeremo sereni in ogni caso quindi mai prendere paura se abbiamo la testa che è di fianco alla finestra lo spazio è quello non possiamo avere camere da 30 metri quadri dove riusciremo a posizionare tutto nel modo migliore possibile serve sempre un po' di ingegno per valutare disposizioni ed effettive possibilità di intervento quindi questa camera sfortunatamente ha proprio una serie di difetti che dovrebbero essere proprio corretti questa camera invece nonostante abbia una testiera non particolarmente adeguata ha una buona disposizione perché ragione perché non ha nessun elemento dietro la testiera che possa riempire la scelta ho scelto questa immagine perché qua nuovamente abbiamo del blu dicevo prima azzurro e blu mai dentro la camera da letto ma in questo caso è un elemento è quello che dicevo se noi vogliamo creare un punto di colore e ci piace molto la tonalità blu azzurro possiamo utilizzarla ma dove appunto nei tessili in complementi d'arredo in questo caso giocano sul contrasto tra il giallo e il blu per creare un bel colpo d'occhio nel senso abbastanza armonica l'unica cosa che forse correggerei è la testiera che è solida nel senso il legno pieno dà l'informazione di solidità ma qualsiasi questo pattern a volte ci ricorda un po' la gabbia la rete per cui non è proprio l'ideale se lo si riempisse dietro ad esempio con del colore sarebbe ottimale in ogni caso abbiamo un posizionamento libero quindi una testiera libera una disposizione laterale anche asimmetrica che non va male di qua c'è un elemento più alto di qua elementi più bassi e l'apertura è nella direzione della tigre che è sempre più è sempre consigliata perché bisogna spaziare cioè la nostra creatività il nostro lato yin ha bisogno di essere potenziato nuovamente se c'è una grossa finestra come può sembrare da questa luce è correttamente coperta quindi in questo tipo di stanza vedendo la combinazione colori vedete anche il pavimento più scuro della parete la combinazione di colori nuovamente potrebbe andarci bene per un settore più legato al nord ad esempio perché avremo sia delle informazioni più legno legate a questi gialli che non sono dei gialli brillanti ma sono dei gialli che ci ricordano più il legno l'inserimento dell'acqua e la mediazione appunto del metallo questa stanza invece ha tutta allora mi auguro sia una camera di un hotel ma tutta una serie di cose che non vanno assolutamente bene prima cosa televisione in camera da letto mai cioè proprio qualsiasi tipo di radiazione elettromagnetica dovremmo ottenerla il più possibile lontano dalla nostra stanza il secondo errore è un enorme specchio dietro la parete e un'altra superficie riflettente qui sopra gli specchi in camera sono belli per altre attività ma non per riposarsi qui nonostante la testiera sia molto piena e chiusa ci sarà un effetto di sfondamento totale vedete cioè si crea proprio un ampiamento della stanza molto marcato che fa sembrare quasi di non essere appoggiati su niente nuovamente parliamo di una stanza con una fortissima componente di metallo che rappresenta moltissimo lo stile moderno per quello vi sto mostrando molte stanze metallo perché è quello che piace e quello che viene spesso proposto e in generale la scelta dei colori va benissimo per direzioni est scusate ovest nord ovest e nord nuovamente abbiamo vetro qua il vetro l'informazione acqua si unisce all'informazione metallo guardate che metallo young che carini che sono questi questi abajur ma abbiamo troppe superfici riflettenti lo specchio in realtà qua è posizionato correttamente perché non è allineato con il letto noi dal nostro letto non dovremmo mai vederci riflessi nello specchio né lo specchio riflettere il letto gli specchi possono essere utilizzati magari come ovviamente per la loro funzione ma ad esempio sia per creare più luce in caso di stanze piccole in questo caso non serviva perché c'è una finestra quasi a tutta parete e o comunque anche per posizionarli in modo tale da avere una maggiore visibilità in caso su una porta che non è visibile dal letto e tuttavia appunto tutte queste superfici riflettenti se vedete anche la parete è un marmorino vedete che riflette non non vanno bene nella camera da letto camera da letto cerchiamo sempre di mantenere più toni satinati comunque anche sulle pareti scusate satinati più materici sulle pareti ed evitare sempre le superfici riflettenti per quello che vi dicevo prima un'altra cosa è che in questo caso la finestra ce l'abbiamo sul lato sinistro sul lato del drago quindi avremo una sensazione di un drago molto aperto e probabilmente di qua invece avremo una parete più chiusa quindi potrebbe esserci anche un po' di sensazione di sbilanciamento tra il drago e la tigra colori invece ottimali sempre per la direzione che ho detto e attenzione mai mai candelabri cose appese in linea con il letto è l'effetto spada di Damocle anche se non ce ne rendiamo conto avremo sempre l'effetto spada di Damocle e dormiremo sapendo che potrebbe caderci in testa o sulle gambe il lampadario questa invece è un'ottima conformazione in questo caso la scelta dei quadri e i quadri li ho aggiunti io per mostrare qual è la tipologia di illustrazione che si può utilizzare con un setup del genere vedete qua ho scelto tutti dei quadri di montagna che seguono delle tonalità terra questa è una stanza che così a colpo d'occhio ci ricorda una persona che ama viaggiare vedete c'è una nave qua poi ho scelto quadri di montagna di paesaggi per dare proprio quella sensazione un po' del viaggio probabilmente magari non beviamo il brandy ne lo teniamo in camera da letto a meno che non dobbiamo fare una festa la disposizione la disposizione è buona la parete è piena la scelta delle immagini è buona perché sono paesaggi come vi dicevo prima parlavamo di un paesaggio aperto questi sono paesaggi chiusi perché tutti chiudono con una montagna quindi danno un senso di copertura di chiusura dietro e la disposizione è anche molto armonica perché nonostante sia simmetrica ha un ottimo bilanciamento posizionamento delle lampade è laterale quindi va molto bene le mensole nuovamente sono laterali quindi non danno fastidio sono presenti delle piante che sono anche posizionate correttamente perché vedete di qua c'è quella più bassa di qua quella più alta quindi dal lato della tigre abbiamo questa e dal lato del del drago abbiamo quella più grande quindi nuovamente abbiamo un buon bilanciamento con la finestra lato tigre quindi più apertura che va bene tende grosse io consiglio sempre in generale sia per una questione di conservazione del calore anche sia per una questione proprio di funzionalità di utilizzare le doppie tende quindi avere una tenda vagamente ombreggiante insomma dietro da utilizzare durante il giorno o quando vi è meno luce esterna soprattutto se siamo se la nostra finestra si affaccia e può essere vista da altre abitazioni o dalla strada nel senso se abbiamo una finestra che dà su un campo o comunque gli altri palazzi sono molto lontani teniamole senza tende d'inverno così entrerà molta luce mentre se abbiamo un cioè siamo proprio affacciati siamo molto esposti cerchiamo di preferire una tenda a velo quelli là proprio appena appena ombreggianti e dopo una controtenda spessa che può essere di vario materiale io consiglio sempre di evitare i materiali sintetici sia per una questione di gestione della polvere che anche proprio per la creazione di elettricità di campi elettrostatici che possono crearci del disagio durante la notte e quindi utilizziamo questa abitudine in particolar modo in camera da letto proprio per correggere anche eventuali finestre top o grandi che potrebbero farci sentire più esposti forse l'unica correzione che avrei fatto è dare un più contrasto tra le cornici e la parete quindi scurire leggermente la parete se vedete qui è una bella parete materica quindi con una finitura opaca e in generale nuovamente parliamo di una stanza che può andare bene sia nelle direzioni più di sia delle direzioni terra che anche nelle direzioni metallo e con questo ho finito il primo video dedicato a una funzione specifica della vostra casa il prossimo mese vi parlerò dell'ingresso quindi parleremo di una funzione di tipo legno che molto spesso non è correttamente valutata all'interno di casa se voi volete valutazioni sulle vostre stanze e mi consentite di utilizzarle per i prossimi casi studio mandate pure una mail con le vostre foto all'indirizzo infodomoteorica.it mi raccomando non inserite nessun dato personale poiché sennò vi dovrò firmare una liberatoria ma se volete farmi avere le foto e mi concedete insomma lo studio online lo farò più che volentieri vi aspetto al prossimo appuntamento e ricordate di seguire il canale per avere le notifiche in tempo reale di tutti i video del mese ciao mi raccomando Grazie a tutti.